Buongiorno a tutti, sono Alessandra Ferlini e lavoro all'Università di Ferrara. Sono un genetista medico e lavoro sulla distrofia muscolare di Duchenne già da parecchi anni. Tramite il Parent Project stiamo portando avanti due progetti. Un progetto di ricerca che è mirato all'identificazione tramite anticorpi della proteina distrofina su liquidi come plasma e urine al fine di mettere a punto e identificare se possibile una metodica molto rapida proteina sensibile e poco invasiva per dosare la distrofina sia nei pazienti con distrofia muscolare di Duchenne ovviamente anche di distrofia di Becker e anche nelle portatrici sane. Idealmente se questo tipo di metodica di strategia funzionasse il dosaggio della proteina distrofina nel plasma e nelle urine potrebbe essere estremamente utile sia per monitoraggio della patologia o della valutazione dell'andamento della patologia della severità del quadro clinico nel tempo ma anche in base soprattutto alla sua specificità in applicazione di test neonatali come test newborn. Il secondo progetto riguarda una biobanca che raccoglie e conserva e stabilizza delle cellule staminali di origine urinaria, le cellule staminali urinarie sempre da pazienti con distrofinopatia quindi in senso ampio Duchenne Becker in questo senso in questo caso la biobanca ha come obiettivo quello di rendere disponibile per scopi di ricerca e di diagnostica queste cellule multipotenti nelle distrofinopatie. Grazie